Ma secondo me il ruolo dell'arte è sempre lo stesso, cioè quello di essere portatrice di innovazioni, di essere in qualche modo all'avanguardia rispetto la cultura, rispetto la concezione dell'arte stessa. Poi esistono diverse forme d'arte, però l'arte in assoluto, quella che oggi siamo qui a promuovere, è tuttora un elemento di riferimento. È un modello che in qualche modo ci permette di infrangere certe barriere e di osare, spingere le persone a aprire la mente e muoversi verso un riferimento, un modello. La moda è sempre stata veicolo dell'arte pop, usarla come veicolo per portare democraticamente a tutti, cioè in maniera molto nazionale, popolare. L'arte, non pop, ma l'arte con la maiuscola, è un'iniziativa molto nobile ed è un, anche questo, è un elemento di innovazione. La moda che interpreta in maniera così intelligente la cultura e l'arte diventa, secondo me, uno strumento proprio per avvicinare le persone e la moda, che sono il primo passo per cercare se stessi, a qualcosa di più alto. Grazie a tutti.